Eccoci qua a commentare, una sconfitta direi prima di tutto immeritata, faccio i complimenti prima di tutto alla mia squadra che secondo me ha fatto una prestazione clamorosa mettendo sotto il desenzano per tutta la partita, purtroppo il risultato non ci ha premiato, oggi è stato proprio beffarda la cosa, ma dobbiamo avere la forza, la prima cosa che vorrei mandare ai ragazzi di non guardare quello che in questo momento qua stiamo raccogliendo, ma di guardare di cosa abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto una partita importante da squadra forte e basta, sono momenti del calcio, bisogna passare tutti insieme, li passeremo, se questo è lo spirito, se questo è l'approccio ne sono sicuro, mi spiace un po' per tutti, per loro, per la sua età, per chi è venuto a vederci, però penso che dal punto di vista dell'impegno, della prestazione e della qualità del gioco non possono dire nulla e quindi andiamo avanti su questa strada cercando di rimare ancora con i piccoli errorini che facciamo e basta che girerà.